Un caro saluto a tutti voi amici di Country Live. Io sono comodamente seduta su questo meraviglioso divano, sono al Country Road, finalmente ve ne parlo sempre tanto, questo onky tonk sui colli euganei, più precisamente a Torreglie, Parco Lonzina, Padova e sono col grande Igor Pasin. Il metro 80, grandissimo. Abbiamo spostato, siamo un po' spostati per farvi vedere il Country Road da tante altre sfaccettature, non soltanto il meraviglioso camino dal quale poi ho fatto molte riprese, è meraviglioso quando poi è acceso, è fantastico. Igor io sono tornata a te perché ho una serie di domande da fare che risolverò spero in tutte queste puntate che stiamo registrando e la prima è questa, è il famoso corso di maestri. Ok, sì, diciamo che ho la possibilità di dare dei diplomi per chi diventa maestro. Io faccio dei corsi per diventare maestri, questi corsi cosa consistono? Dove do delle basi su cui poter lavorare. Sono dei corsi dove le persone che vogliono provare a poi a mettersi in regola e di insegnare hanno delle informazioni su cui poter approfondire tutte delle situazioni per poter andare ad aiutare l'allievo che magari ha qualche problema. L'idea di questo corso è nato per poter far sì che le persone facessero dei corsi di ballo, farsi l'esperienza e poter lavorare senza avere dei problemi, diciamo così, avere un riconoscimento da parte del CONI attraverso l'ICS che è l'associazione con cui collaboro e poter così andare avanti con la sua formazione e quant'altro. Questo corso consiste in una lezione principalmente fatta di due giorni. Due giorni non sono sufficienti per far sì che una persona diventi un maestro. L'esame lo si fa dopo tre mesi. Questi tre mesi servono per approfondire le basi che ho passato come informazioni, l'insegnamento e quant'altro. Ma ciò che rende una persona un maestro è l'esperienza e la capacità di aiutare i ragazzi che vogliono imparare. Perciò quello che io rilascio è un diploma di maestro che non ha esperienza. È un diploma che ti dà la possibilità di fare esperienza. Se io volessi dare dei diplomi che siano già riconosciuti e che diano a quella persona il riconoscimento di maestro già bravo e che abbia tutte le nozioni per poter avere successo dovrebbe essere un po' diversa. Nel senso dovrebbe pagare almeno 2000 euro. Perché? Perché devo fargli l'esperienza io. Cioè uno viene da me, gli insegno le basi, poi mi fa vedere che le mette in pratica, le ha messe in pratica, mi fa vedere come le ha messe in pratica, mi fa vedere la capacità che ha di interpretare tutti quanti i messaggi, di dare un determinato consiglio alle persone e così via. Però diventerebbe ristretto solo per pochi perché non tutti hanno la possibilità di spendere tutti questi soldi. Perciò il diploma che io rilascio di maestro è un primo livello che consiste nel io ho le basi di informazioni, ora devo fare esperienza. Dopo un anno con questo diploma si ritorna per far vedere effettivamente se si ha la capacità e se si ha acquisito tutte le nozioni per aiutare le persone. Perciò aver messo in pratica tutto l'insegnamento. Perciò con pochi soldi, diciamo così, in parole spicce, una lezione, tre mesi di preparazione, dare l'esame per capire se effettivamente sotto l'aspetto di studio si hanno capito le varie esigenze, le varie cose richieste. Poi sta tutto nella persona a mettere in pratica questi insegnamenti. Quando io ho iniziato non c'era un diploma di maestro, non c'era assolutamente niente. Ma infatti è vero, ti volevo dire, scusa che ti interrompo, ma come funzionava? Cioè nel senso che tu impari una coreografia, ti piace, poi te ne puoi inventare perché magari sei particolarmente bravo nell'unire movimenti del corpo alla melodia della musica. Ma in realtà che cosa, come fa uno a diventare un maestro rispetto, cioè... Allora, oggi la percezione che abbiamo del ballo country è diversa da quella di 30 anni fa. Oggi inventare dei balli è un po' sull'ordine del giorno. Tutti diventano dei coreografi. Perché? Perché c'è questa situazione che si è creata attraverso i concorsi, attraverso gli stage, attraverso i corsi che si fanno, di poter portare un ballo inventato. Trent'anni fa non c'era questa cosa. Trent'anni fa c'era la ricerca di fare un qualcosa che era legato all'America. Perciò prendere tutte quelle musiche, quei balli che vengono fuori dall'America. Perché almeno avevi la certezza che era collegato a quella determinata situazione. Perciò non c'era l'idea di diventare coreografo, di inventare un ballo. Anni fa c'era l'idea di un passaparola. Perciò insegnare ad altri ciò che ti hanno insegnato. Sono andato in caserma degli americani o comunque qualche marinso o qualche americano che era venuto qui in Italia ha insegnato determinate cose che erano nel suo paese. Le impari, inizi a capire come potevano essere strutturati questi movimenti, questi modi di interpretare la musica e quant'altro e lo passavi. Ma non c'era niente di tuo. Lo fermo, ragazzi lo fermo perché devo tenerne un po' anche per le prossime puntate. Se no lo sciupo tutto oggi e dopo non lo possiamo... Proprio sul più bello. Proprio sul più bello. Non vi resta altro che collegarvi la prossima volta. Bravo, bravo. Ha detto tutto lui. Ciao. Ciao. Ciao.